La mia razza è sempre stata sfruttata Mangia il fungo, dicevano Diventerai grande, dicevano E' nessuno che tenesse conto dei nostri sentimenti Ma ora basta Il dominio degli umani è finito Noi funghi domineremo il mondo Hello guys, Ragnar here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Oh, siamo su Super Mario 3D World Ovviamente esclusiva Wii U Perché Super Mario, ovviamente lo sappiamo tutti Che è di Nintendo E siamo con Todd Che sarà il nostro protagonista Che prima di passare al mondo 4 Si è imbattuto in questo livello Particolarmente cattivo Andiamo a vedere cos'è Noi stavamo tranquillamente viaggiando E abbiamo trovato mondo 3B Andiamo a vedere cos'è Si vede che Peach non ha fatto bene il suo lavoro Signori, lo sappiamo Peach non è un gran chiese Come personaggio Come persona, lo sapete Io sono particolarmente cattivo con Peach Quindi purtroppo Ho da dirle diverse cosette Quindi vediamo se Todd riuscirà A risolvere i problemi che Peach In realtà si è lasciata dietro Allora, vai Todd Scendiamo Ah no, si rompeva tranquillamente È un'arena Penso che ci sia un boss Immagino E immagino proprio bene Perché Oh Wow Cos'è Cosa sei Cosa diamine sei Cos'è Come funziona sta storia Ok, allora c'è Ci sono tante belle cose Signori Ci sono tantissime belle cose Siamo diventati un gatto Todd gatto è tipo bello È tipo molto bello Tipo bellissimo È tipo Che ti do Oh, ah ok Quindi dobbiamo evitare il tutto Correre E allora Non so se vedete che Todd A differenza di Peach Ha qualcosa di utile Cioè la corsa Guardate quanto cazzo Corre veloce Sì, non mi prenderai mai Mamma mia E poi è tenerissimo Così in blu Davvero è tenerissimo Come cavole Come si fa a essere così teneri No, davvero Davvero come si fa a essere così tenere Signori Non ne ho idea Non ne ho idea Non me lo chiedete Io però Mi sto distraendo E ho sprecato Una buona occasione Per andare a uccidere Il nostro amico boss Che Ah ok Quindi se noi urtiamo Il serpente Non solamente Il piatto I serpentini Qua si Si stizziscono E non mi fanno più andare Aia Mannaggia te Mannaggia Non mi fanno più andare Sulla testa del boss È complesso È sinceramente Molto complesso È abbastanza 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 tosta Ma Se io volessi fare così No No Come non detto Scherzavo Scherzavo tantissimo Corri Todd No 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 Meno male Che ho la corsa veloce Signori Quaco Pitch Sarebbe stata Un'impresa Mega galattica Ve lo assicuro Sarebbe stata Un'impresa Mega 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 galattica Adesso Se io volessi salire così No No Come non detto Come cazzo Si fa sto livello Signori Io Vi giuro che Ancora non ho capito È È un po' difficile Perché deve avere Un tempismo assurdo Neanche perfetto Assurdo Allora Riprendiamoci il gatto Che non si sa mai Io Devo capire Come si fa l'attacco In volo Ok No Così no Non lo so Signori Non ne ho idea Allora Io sto qui No No Allora Il boss è là Se sale in quel modo Mi fa male Sicuramente Se io salissi Non qui Dovrei salire Sul tipo là dietro E sul tipo là dietro E Fai l'attacco In aria Mannaggia Qua sarebbe utile Molto utile Luigi Signori Non so se Avete presente Che con Luigi Avremmo fatto le stragi Grazie ai suoi Mega salti Abbiamo fatto due colpi Due colpi Manca il terzo Tututututututututututututututututututu Vai Vai Todd Vai Todd Sguincia Sgancia Paga No, quello è qualcun'altro Quella dici se mette qualcun'altro Ok, ok, come ci arrivo Quelli sono altissimi Proviamo da qui Vediamo se così riusciamo Sì, grandissimo Vai Todd, spacca culi Oh, finalmente Morto lui, contenti tutti Aspettate che ci prendiamo giusto La stella è mia ovviamente Ho detto che la stella è mia È troppo basso per arrivare alla stella Però le monetine anche sono mie Perché mica ci fanno schifo delle vite in più Visto che ne abbiamo perse un po' Nello scorso gameplay Non so se vi ricordate che Si erano fatti particolarmente pieni e densi I livelli di Mario E quindi, meh Non è stato proprio semplice Comunque anche questo boss Era abbastanza complesso nella sua semplicità Devo dire la verità Non mi aspettavo questa specie di livello bonus Devo dire Perché nello scorso livello Se vi ricordate abbiamo Abbiamo liberato la Fatina E quindi ovviamente liberando la Fatina Io avevo dato più o meno per scontato Che si passasse al mondo 4 Comunque, piccolo Todd Andiamo subito subito al mondo 4 Perché assolutamente Quello è il tuo dovere È il tuo destino È del tuo futuro E con un clima tutt'altro che freddo Perché siamo in mezzo alle montagne Todd si addentra ad arrivare Al nostro primo livello Il 4-1 Covo dei formichi Davvero Si chiamano formichi Che cazzo è sta strada? È quella che Ah, ok È quella che percorrono loro Immagino Ah, perché si arrampicano Ah, che cazzarola Ok, ok Cerchiamo di capire un attimo Come funziona questo livello Signore Intanto mi prendo un paio di monetine Che non fanno mai male Qua vediamo se c'è qualche potenziamento particolare Il gatto Ci fa sicuramente bene Averne uno in più Ok, anche se ne avevamo già due Ma comunque ci fa bene Averne uno in più Vediamo se riusciamo a fare questa cosa Molto faiga Sì, ok Non so come ho fatto Quell'attacco in volo Ma come avete visto ha avuto i suoi effetti No, no, no No, no, no Ok, benissimo Ok, attacchiamo Io corro Poi attacco Aspetta un po' scendi giù Io ti attacco anche a te Grazie mille E ce ne andiamo a fare la samba Qua Questi qua che se ne vanno tranquillamente in fila Io non capisco perché i cattivi di Mario Che sarebbero queste formichine I funghi eccetera eccetera Camminano tutti in fila Cioè proprio si mettono lì per farsi massacrare Una cosa di fantastico Però vabbè signori È un modo alternativo di perdere la vita Che cosa gli volete dire Aia, mannaggia a te Tanto Todd è andato Qui ci dice che Là abbiamo una doppia scelta Ah, però ci sono Vedo degli spuntoni La cosa non è che mi piaccia particolarmente Allora, io mi metto il gatto E vedo anche questi Però sugli spuntoni ci camminano Quindi volendo Si potrebbe fare una cosa del genere Ok Ok Prima di tutto Scendiamo qua Vediamo se c'è qualcosa Immagino di sì Esattamente Eh, come ci arrivo? Come ci arriverò con il gatto? Sicuramente Adesso non più Ah no Niente gatto Ah, si possono usare per saltare Ah, ok Ok, allora Ha più o meno un senso questa cosa Se soprattutto io Saltassi bene Mamma mia Per quanto non sono saltato fuori dal Dal livello Il problema è che adesso Senza gatto Tutto ciò Diventa un po' inutile Oh, vedi il gioco Che mi ascolta ogni tanto Grazie Allora Io voglio andare con lui Verso l'infinito e oltre Perché l'infinito e oltre Ci piace Piace a tutti Piace a me Piace a voi Piace a Buzz Lightyear Piace Piace a tutti quanti Signore E anche quella stellina Sarebbe piaciuta tantissimo a me Forse se mi butto così In maniera molto pazza Mamma mia Todd Mamma mia Todd Signori Che cosa sta combinando È un fuoriclasse Lui sì È l'unico vero fungo di Mario Non esistono imitazioni Todd può Perché lui può E gli altri no Vai Todd Arrampicati E andiamo 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 Facciamo mangiare la polvere A tutte queste formichine Che camminano E dicono Sei solo un gatto E tu sei solo una formica Fratello Ok No, 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 no E vabbè Non fa nulla Abbiamo preso comunque tanti punti Però volevo prendere anche la vita Todd è stato Si è comportato bene Intanto qua sotto c'è un cane Gabbaia Probabilmente starà vedendo anche lui Todd Gatto E non Non gli sta molto a genio Vediamo se il secondo livello Ce la passiamo Così come abbiamo fatto nel primo Perché potrebbe essere Signori Devo dire la verità Potrebbe essere Iniziano a farsi belli complessi Il livello di Mario E sta cosa Mi piace un sacco Mi piace un sacco Quando i livelli diventano difficili Ti fanno bestemmiare Però ti diverti un casino Mi sa Mi sa che questa è Palude E infatti Palude Delle piante Serpiragna Ai 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 Che sarebbero quelle Non so se si notano Ok Posso farle indietreggiare Con l'attacco del gatto Questo è buono Cosa mi dai Qua però Il fiore Perché probabilmente Il fiore le fa Morire del tutto Esattamente Ok Quindi Ah ok Più le colpisco Allora forse anche con quello Ma l'avete visto Non l'avevo visto Signore Avete visto Todd cambia colore È bellissimo Todd giallo e rosso Sicuramente ci sarà stato Un altro capitolo di Mario Che probabilmente Mi sono perso Ma è fantastico È fantastico È fantasticissimo È fantasticherrimo Non è italiano Ma è bellissimo È meraviglioso Come direbbe il nostro amico Marcus Cron Che io saluto Anche se so che non guarda i miei video Ma io lo saluto lo stesso Poi capiterà Semmai in un gioco Di un video di Mario E vabbè Ok Allora Cerchiamo di fare così E andiamo a prendere No 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 Come ci sa Forse posso saltare Sulla loro testa Signori io Io la faccio Sta pazzia Ok posso saltare Sulla loro testa Che significa Forse saltando Ah no Ok ce l'ho fatta Tranquillamente Anche senza Senza di loro Ho fatto una minchiata Ecco no Ho fatto una Ho fatto sei minchiate No signori Qua perdiamo tutto È tosto No è tosto Troppo tosto Non riesco Si deve avere una coordinazione Nei movimenti E la scelta di tempismo Di salto Vi assicuro Io faccio schifo Nei salti Non so se ve le siete accorti Negli episodi vari Di Mario eccetera Ma io e i salti Non andiamo per niente d'accordo Quindi evitiamo di fare cose strane Forse è meglio Corri 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 Aiuto 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 Mamma mia Che paura 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 Poi tutto Lo hai sentito L'audio che ho vattato Perché siamo sott'acqua Queste piccole cose Vi giuro mi fanno uscire fuori di testa Oh 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 Ma io ho il gatto Io ho il gatto E qui c'è qualcosa Oh Yeah 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 Basta però Perché se no Ce ne torniamo indietro Ok Andiamo Andiamo via Andiamo nel tubo Vediamo se riusciamo a uscire Da sta palude Che sinceramente Signori Non mi sembra un gran bel posto Dove vivere Abbiamo preso Un altro gatto Mica male Siamo stati abbastanza fortunati Fortunelli Siamo e fortunelli Saremo Si spera Allora Qua abbiamo Questo problema Di Allora Questa ci da una vita Che cazzo ci da Non mi ricordo Signori Tu 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 Si no Ci da una stella Questa verde Meno male che l'abbiamo fatto Ok Una stella in più Sempre una cosa ottima Io non ricordo bene Signori Ma Se non sbaglio A fine gioco Si può usare Un altro personaggio Che non vi dico Chi è Ma Si può usare Solamente se abbiamo Sbloccato un tot di stelle Quindi Aia Quindi cercherò Di prenderne più possibile Se ci riusciamo Se non ci riusciamo Poi signori Purtroppo lo sapete Non è che possiamo Far durare Stasera i milioni di anni Lo vedremo tutti Io specialmente Oh mio dio Ma Todd Perché gira così Guardate Ok Puoi iniziare a correre Velocemente Todd Grazie Niente Vabbè Prendiamo il minimo punteggio Disponibile Però siamo a posto Lo stesso Mille punti Ho 10.000 No Mille Mille Mi sembra mille Vabbè Livello completato Grande Grande Todd Piccolo Todd È simpatico però Signori Perché è veloce Da giocare Poi è molto divertente Mi piace Mi piace un casino Ok Perfetto Signori Io penso che il video Sia durato anche abbastanza Ci finiamo tutto il mondo Nel prossimo episodio Sperando di non incappare In cose strane Anzi forse questo Ce lo facciamo qua E poi Che sancisce un po' la metano Ci facciamo Questo pezzo di Questo pezzo di Interpretate voi come volete Che dovrebbe essere Un boss Penso Un mini boss Da quello che ci ha insegnato Questo gioco di Mario Ok Ah dobbiamo buttarlo fuori E basta Forse è più di una volta Forse sono anche più di uno Ok Ok Queste se ci prendo Secondo me signori Ci fanno un dolore Impressionante Quindi andiamo via Ok Vieni con me Arrivederci Ok Quanti adesso 5 milioni di miliardi Ah no è finito È stato piuttosto semplice Devo dire la verità Pensavo molto più complesso E dicevo Siamo a metà del mondo 4 Mondo si Mondo 4 Noi ci vediamo In un prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Mi raccomando Signori venite Sulla pagina facebook Che trovate qua sotto In descrizione Per tutti gli aggiornamenti Del mio canale Di me E di tutti gli scleri Che posso condividere Su questa social network Noi ci vediamo In un prossimo video Lasciate un mi piace Un commentino Ad enjoy E credo che ne sia con voi Mi raccomando Tanti pollici in su Per Todd Perché è un figo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti